E ciao a tutti ragazzi, eccoci qua su Brawl Stars, ma non proprio su Brawl Stars, sto qua, lo fate vedere raga, qua, è Iris, il nuovo brawler, un'anteprima ve lo volevo provare, potete vedere, vabbè, le cose, quando aggiungiamo, però questa qua è tipo una mod, tipo bugata, perché guardate, hai visto? Fa le cose di scelli, non so perché, quindi è meglio, vabbè, non capisco perché, ma fa le cose di scelli, prima non faceva le cose di scelli, non capisco perché, adesso le fa, vabbè, vittoria raga proprio scelli, però con una cosa bugata, sembra, Ma mia Grazie, come questo qua non è quello, è quello che vuole, vero, Iris vabbè aspettate se volete andate avanti nel video anzi no aspettate vabbè ormai davanti è vinta quindi se proprio volete andare altunque e saltate il video ok devo andare al negozio cosa c'è niente infatti infatti mi sa nitta gelindolo no machissimo no raga gelindolo questo qua è cromatico poi ve lo vorrei fare provare no vabbè dai no non è quella che ci serve però credo che voi già lo conoscete gelindolo come fa come ulti vuoi fare questo guarda minima forse aspettate raga ma ci sono due gelindolo guarda sto che gelindolo pure che ma come uguale sto gelindolo c'è uguale strano vabbè facciamo vedere qua c'è iris aspettate aspettate ecco qua c'è iris lo voglio fare provare in anteprima perché per ora non posso peccate eh peccato non c'è perché come come siccome come ulti possa fa questo raga tipo una cosa telecomandata che poi esplode capito come colpi questi qua un tipo uno dei tre colpi sembra quella di Eugenio tipo che sono tipo tanti colpi però poi viene da uno 2012 credo che sia un po' troppo vabbè adesso ho messo la costella comandata qui fra duemila ma raga ma è troppo pisto cosa con i robot distrugge uno infatti ma è troppo pisto tutto qua ecco ok 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 ecco appena va sbottere da qualche cosa questa raga è una figata è anche molto forte è anche molto forte un po' che cosa è che avevamo modificato i comandi ma vabbè non lo conoscerete mai di nuovo ok la mia raga è una figata pazzesca sto brawler aspettate fatemi vedere raga vorrei fare una cosa ma che è più vicino è più da anno fa come ho immaginato io come ho immaginato io più vicino è più da anno fa tipo non lo so aspettate tipo qua facciamo anche l'ho preso aspettate qua no aspettate vediamo vabbè raga buono non ho capito bene sto brawler bene veronis ero buonissimo raga eh sembra epico raga forse è meglio di Bea Tutto è molto bene come bruleo epico, raga Visto, raga Come, raga, non possiamo ancora vedere Non possiamo vedere Io sono super forte, se lo volete provare anche voi, link in descrizione Visto qua Raga, ma se io vorrei provare a entrare nel mio super se l'ha i tipi, lo immaginate, no? Qua c'è l'irizzo Perché è tutto uguale Qua c'è l'irizzo Andiamo 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 Che è tutto qua Vabbè, raga, vediamo se qui domanda Grazie a tutti